Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo all'errore di Dead by Daylight che non si avvia su PC quindi in questo caso il problema persiste sia su Steam che Epic Games, quindi l'errore è uguale quindi andiamo un attimo sul nostro Epic Games o Steam se io adesso vado ad avviare il gioco mi dice neanche in esecuzione, non me lo dice neanche, mi dice direttamente avvio non ho riuscito quindi manca qualcosa nella sua cartella oppure c'è qualche file difettoso quindi faccio un attimo rifiuto, vado un attimo sulla sicurezza di Windows in caso Windows Defender abbia bloccato così qualche file nella sua cartella quindi vado su Windows Defender, protezione da virus e minacce, gestisci impostazioni esclusioni, aggiungi o rimuovi esclusioni cartella e ci metti quella di Dead by Daylight chiudiamo un attimo qua facciamo anche la verifica al gioco gestisci, verifica una volta verificato chiudiamo un attimo Epic Games scrivi Epic Games tasto destro sopra esegui come amministratore aprilo sempre dentro la piattaforma quindi tutto quello che ho fatto su Epic Games è la stessa cosa anche su Steam libreria e adesso avvio il gioco se non dovesse avviarsi puoi semplicemente aggiornare i driver della tua scheda video e il gioco si sta avviando per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao grazie a tutti